facciamo adesso le domande se ci sono poi andiamo a mangiare però è obbligatorio farne almeno una quindi ecco, perfetto ah perché questo qua qua la domanda dunque per non farsi male con gli strumenti come si fa a monitorarli e a capire quali sono quelli realmente utili quindi quelli su cui spendere risorse economiche di tempo e quant'altro la risposta banale c'è se prova la grossa fortuna che avete nel giocare con giocattoli di questo tipo è che essendo in un modo o in un altro degli oggetti informatici avete un modo per misurare magari non sempre diretto però avete un modo per misurare l'efficienza o l'efficacia di ognuno di questi se io faccio una campagnuzza di qualche tipo e le visite al mio sito le interazioni non aumentano vuol dire che quella roba lì non ha avuto nessun significato se invece riesco a vedere dei risultati allora vuol dire che quella roba lì ha funzionato e così via non esistono regole fisse ci sono ormai alcuni suggerimenti che io classifico come buonsenso applicato nell'utilizzo di strumenti di questo tipo e poi l'altra è misurare e misurare quello che fanno loro quello che volevo dire anche io in aggiunta a quello che diceva il professore che è corretto anche da parte mia è decidetelo voi cos'è corretto e cosa no nel senso non iniziate senza una strategia quindi l'obiettivo è le prenotazioni è avere fan qual è l'obiettivo della vostra strategia l'obiettivo è far conoscere oppure datevi una scala di priorità magari l'obiettivo è aumentare le prenotazioni della mia struttura attraverso la conoscenza del territorio delle tradizioni della cucina una volta che voi avete la strategia la misurazione viene di conseguenza perché voi misurate effettivamente i criteri di efficacia quindi banalmente se voi utilizzate i facebook social network che in questo momento non potete non usare anche solo per un problema numerico lo potete monitorare da un punto evitate di fare gli errori di registrare come dicevo a qualcuno stramani di registrarvi a facebook come persona ma non perché è contrario alle polisi di facebook e basta perché se voi fate una fanpage ad esempio potete tenere sotto controllo i vostri likers si chiamano oggi i vostri fan la composizione demografica l'attività su ogni singola pagina quanto tempo stanno su di voi quanti commenti fanno e questo vi dà degli insight per basare la promozione futura è quello che è importante è che tutto potete misurare tutto può essere tenuto sotto controllo però in base a quali sono i vostri obiettivi non è detto che l'obiettivo siano le visite per noi ad esempio le visite sul sito non era un obiettivo rilevante anzi ci interessavano altri tipi di indicatori ora faccio la domanda cattiva quel più sette quel più sette nessuno potrà mai dimostrare no lo so che è così però noi abbiamo appena finito uno studiolo che loro conoscono sui siti web delle regioni italiane e anche sulle strategie che questi hanno o non hanno e casualmente ci sono tre o quattro regioni che noi consideriamo regioni virtuose che casualmente sono quelle che per esempio come minimo non hanno perso ora io non mi sento di dire che è scientificamente provato che ma qualcosa ci azzeccherà tengo conto poi soprattutto del fatto che i nostri mercati principali sono mercati fatti da persone che sono fra i più grossi utilizzatori di strumenti digitali al mondo e che questo in quei paesi ha un influsso ancora superiore a quello che ha qui ci sono una serie di sintomi non posso dimostrarlo come un teorema ma ci sono tutta una serie di sintomi molto forti che ci dicono che strumenti di questo tipo sono estremamente efficaci poi se per quello che è 7 piuttosto che 5 e mezzo chi se ne frega tra l'altro se voi andate a vedere le principali statistiche turistiche provate a metterle in confronto guardate la banca d'italia c'è tra statistiche c'è uno studio sul turismo sia italiano verso estero che estero verso Italia poi guardate quello di istat quello di irpet della regione toscana e li confrontate sono completamente differenti quindi ma completamente ma con numeri ma tanto differenti eh tanto tanto esatto prendetene uno come riferimento e basatevi su quello insomma mi fermo allora sempre lo stesso ne parliamo a pranzo va bene eh ma due domande la prima in quelle pre durante e dopo non c'è facebook volutamente come dire senza di quello non si fa facebook è la commodity ormai dei social network nel senso facebook ormai è prima durante e dopo nel senso un po' meno prima un po' più durante e un po' più dopo google è prima durante e dopo quindi in realtà youtube youtube è c'è uno studio abbiamo parlato nella bto che il secondo motore di ricerca dopo trip advisor per i viaggi è youtube se vai a cercare i video delle destinazioni quindi in realtà io lì ne avevo messi soltanto alcuni ma tutti hanno una valenza prima durante e dopo con alcune specificità four square è durante perché è real time gli altri sono sicuramente diacronici l'altra cosa era tanto l'abbiamo visto più o meno tutti lo spot di berlusconi sul turismo no 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 però aspetta non mi interessa fare la polemica troppo facile però in realtà sta creando una quantità mostruosa io ieri me ne sono visti 18 di parodie che mi rammenta un po' come l'effetto più tasse per totti e cose varie mi domando si può sbloccare che tipo di beneficio diano questi effetti cloni non autorizzati perché mi sembra molto molto buono mi sembra molto l'effetto del vignaiolo che è nato così eppure lo guardano tutti se voi leggete cultura convergente di Henry Jenkins vi fa capire questo fenomeno della sottocultura web dei grassroots cioè dei fenomeni che partono dal basso ad esempio lui affronta anche argomenti cinematografici Matrix Guerre Stellari hanno migliaia e migliaia di parodie create direttamente dagli utenti della rete esistono esistono sicuramente degli effetti positivi ad esempio l'effetto del buzz del parlarne aumenta la notorietà però bisogna capire anche è un aspetto quantitativo ma quello che è più importante è quello qualitativo cioè non ne parleranno sicuramente in termini lusinghieri di quello spot e l'effetto valanga che ne genera anche le varie parodie io non credo che possano avere non lo so io insomma così a sensazione mia personalissima non credo che possano avere degli effetti positivi vi ricordate quando era il 2007 quando Rutelli allora ministro del turismo andò su youtube allora nel 2007 sembrava una cosa eccezionale e fece il famoso video please visit Italy che fece il giro del mondo in cui si vedeva veramente se riesco ve lo faccio vedere in cui si vedeva Rutelli che faceva please visit Italy e parlava con un inglese maccheronico ci hanno preso in giro dalle alpi alle piramidi veramente ve lo faccio vedere intanto che come al solito dipende qual è l'obiettivo allora se l'obiettivo è fate quello che volete ma parlate di me che io esisto può anche dar bene il problema è è quello l'obiettivo no non ci arrivi va bene rischiano di essere armi a doppio taglio omicidiali nel senso che creano rischiano di creare delle aspettative che poi non sono verificate in certi modi e comunque voglio dire non sono anche secondo canoni molto tradizionali di comunicazione quelli che noi stiamo continuando a dire non funzionano più eccetera anche secondo quelli non sono operazioni che voglio dire nessun pubblicitario classico avrebbe mai suggerito però tutto si sta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.